Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione live di Udinese TV. Il primo appuntamento è con la rassegna stampa, ma anche con le altre informazioni, per esempio il meteo. Cominciamo con uno sguardo sulla regione, le webcam che arrivano da Promo Turismo. Oggi dovrebbe essere una bella giornata di sole dopo la pioggia e qualche temporale ieri. Qui andiamo a dare subito uno sguardo agli scorci che ci arrivano dalle webcam. Come potete vedere il cielo è sereno, c'è il sole all'orizzonte che sta cominciando già a baciare le cime dei monti. Come vediamo in questo caso, andiamo avanti ancora con la carrellata. Qui siamo sul litorale e oggi sicuramente sarà una giornata nella quale verranno prese d'assalto le spiagge della nostra regione. Ancora torniamo in montagna dove si può notare sicuramente una situazione che fa ben sperare per tutta la giornata. Andiamo con Elisa Febbo a vedere il quadro generale delle previsioni del tempo sul Friuli Venezia Giulia. Ben trovati all'appuntamento con le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di domenica 12 luglio. Nella notte piogge temporali su tutte le zone, poi miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soffierà bora da sostenuta forte sulla costa e sulle zone orientali. Nel pomeriggio possibile cielo variabile sulla zona montana. Temperature Sulla costa le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, le massime tra 24 e 27 gradi. In pianura le minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi, le massime tra 25 e 28 gradi. A 1000 metri 14 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è come sempre a domani con le previsioni meteo. E cominciamo la nostra carrellata sulle notizie. Lo facciamo con il sito web di Udinese TV, Udinese TV.it. In primo piano lo sport. Oggi si gioca. L'Udinese scende in campo contro la Sampdoria e la Dacia Arena. Ci sono stati degli anticipi. Dopo faremo il punto della situazione con risultati e classifica aggiornata. Le notizie sul sito Udinese TV.it, sempre aggiornate. In questo caso con i convocati per la gara Udinese-Sampdoria in primo piano. Ma anche notizie che riguardano, come sempre, l'aggiornamento dei casi di coronavirus. Ieri si è registrato un caso in più rispetto al giorno precedente. E poi con la cronaca, incidenti e tutto quello che succede nella nostra regione. Con la possibilità di consultare anche la sezione video. A destra il video in tempo reale. Lo streaming che vedete in questo momento sta trasmettendo esattamente quello che viene da in TV. Cioè la rassegna stampa che vi stiamo proponendo. E poi a sinistra invece l'ultimo TG andato in onda in ordine di tempo. Che è quello di ieri sera. E poi l'ultima trasmissione di prima serata andata in onda. Trasmissione di approfondimento. Ieri sera c'era il film in programma. Ma l'altro ieri abbiamo trasmesso. Gli speciali del TG. Ci siamo occupati dell'abuso di alcol e di droga da parte degli adolescenti. Un fenomeno che fa ancora preoccupare tantissimo. Viste anche i casi di questi giorni. Per esempio i due ragazzini a Terni che sono morti dopo aver assunto droga. Ma andiamo avanti adesso con l'ANSA. L'agenzia stampa più importante del nostro paese. Più diffusa e più conosciuta. E qui si parla di ASPI. E cioè della società che fa parte del gruppo Benetton. Che gestisce le autostrade. Il piano da 3,4 miliardi presentato dai Benetton per evitare il ritiro della concessione. Il Movimento 5 Stelle dice che non è sufficiente. Non chiude la porta ad un proseguimento del rapporto con i Benetton sul fronte della gestione dell'autostrade. Il Movimento 5 Stelle che vorrebbe però diciamolo subito la revoca della concessione. Dopo il crollo del ponte Morandi. Ma dice che non bastano i 3,4 miliardi che l'ASPI vorrebbe pagare. Qui siamo sulle ultime ore. Andiamo a vedere l'ultima ore che riguarda Donald Trump e gli Stati Uniti. In questo caso ancora l'emergenza coronavirus. Per la prima volta Donald Trump si mostra ai suoi connazionali e al mondo. In mascherina l'ha indossata durante una visita ad un ospedale militare. Negli Stati Uniti i casi di contagi non accennano a diminuire e dunque anche Donald Trump si è convinto che forse è il caso di essere prudente ma soprattutto di dare un'immagine prudente e trasferire un messaggio di prudenza alla popolazione. Vediamo ancora qualche sito internet andato a vedere per esempio il TG con 24 dove c'è lo sport in apertura sotto la testata. Il doppio rigore di Ronaldo che permette alla Juventus di pareggiare contro l'Atalanta che ha giocato però una gran partita. Poi bene la Roma e crisi invece la Lazio che perde la terza gara consecutiva. Dopo approfondiremo il tema relativo al calcio. Invece per quanto riguarda l'ultimo ora si parla di una forte scossa di terremoto registrata a Tangshan in Cina. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la città di Tangshan dove nel 1976 un sisma devastante aveva ucciso 240.000 persone. Per il momento non ci sono notizie di vittime o danni ma la scossa è stata avvertita anche a Pechino a 200 km di distanza. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in un quartiere residenziale appena fuori dal centro della città. Questa è la pagina del TG con 24. Allora andiamo a vedere adesso invece i giornali. Cominciamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali dove gli argomenti sono più vari. Ma si parla soprattutto anche del caso di autostrade ma in particolare di politica, della situazione attuale, delle problematiche interne alla maggioranza. Andiamo con il Corriere della Sera ad aprire sulla stretta, su Voli e Movida, stato d'emergenza, casellati. Martedì si vota la proroga, il PD. Noi con Conte, l'ha detto ieri Zingaretti, siamo pronti a votare il provvedimento. Il nuovo DPCM con le misure anti-Covid, no alle discoteche al chiuso, limiti per Sagre e Fiere. Andiamo a vedere qui invece una fotografia d'allarme nel mondo, record di contagi in 24 ore. Operatori sanitari si svestono dopo aver sottoposto a screening gli occupanti di una baraccopoli a Mumbai in India. La situazione nel mondo non accenna a dare segnali positivi in molti paesi, soprattutto quelli ad alta densità di popolazione. In questo caso abbiamo visto l'India e abbiamo visto anche che negli Stati Uniti, anche se la situazione è diversa rispetto a quella dell'India, ma è comunque un paese più grande, con più abitanti rispetto per esempio all'Italia ovviamente. Ma la situazione lì non accenna a regredire, anche perché probabilmente non c'è una stretta osservanza di quelle che sono le misure di prevenzioni minime previste, che invece hanno ben funzionato nel nostro paese e in altri paesi europei, dove il virus è stato poi circoscritto e si può parlare ormai quasi dappertutto di situazione sotto controllo. Così non è in altre aree del mondo. Andiamo sulla Repubblica, l'apertura è per le autostrade. L'autostrade spacca il governo, piano dell'azienda era 3,4 miliardi per trovare un accordo. Il Partito Democratico, favorevole, ma i 5 Stelle bocciano la proposta. Conte pensa all'uscita dei Benettoni, chiede a cassa depositi e prestiti di acquisirne le quote e avere il controllo dello Stato. C'è anche questa disponibilità da parte di Aspi di cedere la maggioranza ad un investitore pubblico, hanno dichiarato i Benetton, che sia però interessato ad investire sulle autostrade, sull'azienda. Dunque sarebbero disposti a scendere sotto la quota del 50% per cedere una parte del controllo ad un investitore che sia però pubblico, non privato. Poi c'è sul piatto questa offerta di 3,4 miliardi di euro che verrebbero poi utilizzati proprio per manutenzione e sviluppo della rete autostradale. Continuiamo con la lettura dei giornali, vediamo il gazzettino come titola in apertura, il quotidiano di Letto Roberto Papetti, pronti a chiudere singole aree nel caso del Covid. Il ministro Boccia dice di fronte a nuove situazioni di crisi potremmo bloccare alcuni territori, come è successo in alcuni paesi, perché dove si sono registrati dei piccoli focolai sono state chiuse delle aree, sono state disegnate delle aree rosse, anche all'interno di una città, di un quartiere, addirittura di un isolato, questo perché? Per consentire di circoscrivere il virus, di circoscrivere l'area dove si è verificato il focollaio. Mose in autunno in caso di emergenza funzionerà. Sono state effettuate delle prove che abbiamo anche documentato con i nostri servizi, sei paratie sul totale delle paratie previste non hanno funzionato, ma c'è la possibilità ovviamente di ripararle e di rendere tutte funzionanti le diga mobili e ormai tutto è pronto, secondo quello che dice Elisabetta Spitz, che è il commissario di questa opera per metterla finalmente in moto, in funzione. Andiamo avanti e passiamo adesso alla stampa, che titola sulla politica, Berlusconi, Altolà, Conte, rispetti la Costituzione, il caso è quello della proroga dello stato di emergenza che fa storcere il naso a molti, il Cavaliere scrive alla stampa, dibattito in Parlamento sui poteri speciali e poi autostrade 3,4 miliardi di indennizio per mantenere la concessione. C'è anche qui lo sport con la Juventus che rimedia ad una grande Atalanta con due rigori che salvano la formazione di Sarri, più 8 sulla più immediata inseguitrice, è dunque una Juventus che si avvicina al nono scudetto consecutivo e poi potrà concentrarsi sulla Champions, dovrà superare prima di tutto il Lione, negli ottavi di finale si parte da 1-0 per i francesi all'andata, francesi che però non giocano una partita vera da ormai da tantissimi mesi, visto che la Ligue 1 ha chiuso i battenti rispetto agli altri campionati europei che hanno deciso di aspettare, di far passare l'onda lunga, l'onda alta e lunga dell'emergenza coronavirus per poi tornare in campo. Udinese, la Juventus sarà sicuramente più rodata e vedremo come finirà, c'è anche il Napoli ancora in ballo per quanto riguarda la Champions League. Il Fatto Quotidiano titola a centropagina l'ideona leghista del compagno Sala, le gabbie salariali, altro che di sinistra, non è giusto che un dipendente pubblico guadagni a Milano come in Calabria, da un'idea di Bossi e della peggior confindustria, scrive Il Fatto Quotidiano. Chi rema contro il governo Conte, grandi manovre su Draghi con giro tondo intorno a Berlusconi e poi sottosegretario del 5 Stelle alla Salute, Sileri dice meglio i due tamponi dello stop ai voli Schengen. Quindi fare due tamponi a chi arriva ma chiudere i voli nell'area tra i paesi dell'area Schengen sarebbe dannoso, dice Sileri. Andiamo sul manifesto, Fuoristrada è il titolo accompagnato dalla fotografia di una coda ai caselli autostradali. Aspi, in questo caso si parla però non di traffico in autostrada ma della concessione al gruppo Benetton. Aspi risponde all'ultimatum del governo e presenta un nuovo piano per evitare la revoca della concessione forrendo anche la disponibilità a tagliare il costo del pedaggio, maggiori investimenti ma è Benetton pur ridimensionati. Restano in Atlantia i 5 Stelle scettici, PD e Italia viva prudenti, slitta il Consiglio dei Ministri di martedì. Andiamo a vedere in alto invece, sotto la testata si parla dell'emergenza coronavirus, Conte andrà in Parlamento. attacchi dalle destre ma il malumore è anche nella maggioranza per il cosiddetto stato di emergenza che Conte vuol prorogare fino al 31 di dicembre e questo gli consentirebbe di agire attraverso i cosiddetti DPCM che abbiamo imparato a conoscere, visti che ne ha fatti davvero tanti nel periodo dell'emergenza e questo non va giù alle opposizioni che ritengono si tratti di una quasi una usurpazione di poteri, di pieni poteri al Presidente del Consiglio con una esautorazione di quello che è il governo del Parlamento, invece Conte ha detto che porterà il provvedimento in Parlamento, ma in Parlamento è sostenuto da una maggioranza, dunque a meno che non si crei qualche problema all'interno della maggioranza ma un problema numericamente importante passerà a questo prolungamento dello stato di emergenza con il voto del Parlamento, ma quantomeno ci sarà però un dibattito in aula. Andiamo su Libero e vediamo l'apertura, più pensionati che occupati a maggio hanno percepito uno stipendio di 22,77 milioni di lavoratori mentre l'Inps ha staccato 22,78 milioni di assegni, siamo davvero lì, come vedete 22,77 milioni di lavoratori occupati e 22,78 milioni di assegni per i pensionati. Nel mezzogiorno il divario è ancora più marcato, l'unica emergenza è l'immigrazione, sbarcano altri 28 profughi con il Covid. Vediamo invece a centropagina la foto di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, la Meloni ruba voti a Lega, Forza Italia e 5 Stelle, sondaggio esclusivo realizzato da Libero e poi qui in basso il grande tonfo della sinistra, da Berlinguer a Zingaretti, la decadenza inesorabile della specie dei capi comunisti in Italia si coglie accostando i due cognomi, i due volti, i due modi di nuotare nel medesimo fiume rosso Berlinguer al quale si è direttamente o indirettamente ispirato anche pensate un po' Matteo Salvini e scatenando polemiche infinite nei giorni scorsi. Andiamo a vedere adesso la verità, la tentazione di Conte far saltare le elezioni, martedì il voto sullo stato di emergenza, il PD dal via libera alla proroga dei pieni poteri al Premier, del resto l'obiettivo comune è quello di sopravvivere e il risponso delle urne a settembre potrebbe infliggere un corpo letale a questo disegno, per questo si prepara un bel DPCM per rinviare ancora con la scusa del virus, quindi potrebbero anche essere rinviate ad altra data dopo l'emergenza. Le elezioni amministrative, quelle che prevedono il rinnovo di consigli regionali e l'elezione dei Presidenti con i leader della Lega che vorrebbero andare al voto subito, per esempio Zaia, il Veneto è interessato dalla consultazione elettorale, avrebbe voluto già votare nel mese di luglio, si voterà secondo quelle che sono le date ipotizzate il 20 settembre, ma non è detto, vediamo cosa succede con il prolungamento dello stato di emergenza, con cosa deciderà il governo con il Parlamento che dovrà esprimersi in tal senso. Altro che revoca, arriva all'inciucio governo Benetton, vediamo proprio in fotografia uno dei più importanti dirigenti, nonché ovviamente componenti della famiglia Benetton, arriva all'inciucio, la famiglia cede alla maggioranza ma resta ad approfittare degli investimenti pubblici, kit per sopravvivere nelle autostrade Liguri. Poi giudici ideologici sui migranti, parola di giudici. Il Tribunale di Palermo cancella l'assoluzione dei capi della rivolta attuata per costringere una nave a portare in Italia, sentenza frutto di un'interpretazione criminogena, poi la bomba, non naufraghi ma clandestini. Andiamo sul giornale, emergenza stipendi ed emergenza di migrazioni tra parentesi, altro che Covid, democrazia sospesa con la scusa del virus, silenzio sul crollo delle buste paga e sugli sbarchi triplicati. Questa è la prima pagina del giornale di Alessandro Salustri, poi si torna a parlare di Cesare Battisti, il terrorista protesta per il cibo in cella, Battisti non piace il rancio, gli manca la gauche al caviale, facendo riferimento alla lunga latitanza con annessa protezione in Francia. Andiamo qui a vedere la prima pagina, è solo le 24 ore per chiudere la segna nazionale, crisi più pesante nel nord-est, cassa integrazione, meno vincoli. Covid, dall'erogazione a fondo perduto la mappa degli effetti del lockdown, colpiti commercio e imprese individuali e per l'emergenza l'impesa è impegnato a metà delle risorse previste, l'istituto controlli leggeri sulla CIG ordinaria, sulla cassa integrazione ordinaria. Lettera di autostrade al governo che a tariffe riassetto azionario e dunque l'offerta di Aspi è quella di ridurre la sua percentuale di controllo al di sotto del 50%, quindi passare in minoranza ma cedere il controllo ad un investitore purché sia pubblico e poi 3,4 miliardi di indennizzo su quello che è successo a Genoa e in generale sulla gestione della rete autostradale con manutenzioni che sono risultati carenti in molti punti, non soltanto sul ponte Morandi che poi tragicamente è crollato due anni fa. Adesso c'è il tema di dover assegnare la concessione di quel tratto di autostrada, il ponte è pronto, ci sarà l'inaugurazione a breve e potrà poi essere collaudato e dunque il traffico potrà iniziare a scorrere di nuovo in quel tratto di strada che non c'era più dopo il crollo del ponte Morandi e bisognerà assegnarlo di nuovo ad Aspi perché non c'è un nuovo concessionario, la concessione non è stata revocata, dunque il gruppo Benetton è ancora gestore di quel tratto di strada a cui appartiene il ponte, si sta discutendo adesso su cosa fare per il futuro. Andiamo avanti adesso e passiamo alla lettura dei giornali locali con la prima pagina del gazzettino del Friuli, quindi della zona di nostra competenza geografica, ansia da Covid, studenti in coda dallo psicologo, sono aumentati i consulti dallo psicologo da parte soprattutto dei giovani che sembrano aver subito le conseguenze maggiori dal punto di vista dello stress, dell'ansia causata dalla clausura imposta dal Covid durante il periodo di lockdown, clausura o comunque impossibilità di svolgere le attività quotidiane all'era aperta come lo sport o anche tutto il resto frequentare gli amici e trascorrere in libertà le ore, in spensieratezza le ore e le ore libere. Profughi, la regione chiede regole, ieri 40 rintracci ad Udine, ieri decine di nuovi rintracci, ne abbiamo parlato anche nei servizi dei nostri telegiornali, Roberti punta l'incontro fra i presidenti e cioè il presidente italiano e quello della Slovenia che avverrà domani a Trieste per arrivare ad una intesa con la Slovenia. Udinese, ora la vittoria in casa, si parla di sport, l'argomento che andremo ad approfondire tra poco. Dalla prima pagina vediamo un po' all'interno anche altre notizie, questa pagina e questo titolo riprendono quanto abbiamo già detto e visto leggendo la prima pagina, cioè dell'ansia nell'era Covid con il boom di ragazzi che si rivolgono alla psicologa o allo psicologo naturalmente. Questa è la prima pagina interna della dorsale dedicata al Friuli Venezia Giulia e poi c'è il tema del tagliamento che tiene banco e sta facendo litigare la politica, interviene l'assessore Scocci Marro e dice tagliamento e scontro, non si mettano bandierine. Scocci Marro dice alla minoranza vuole il suo Gaiardetto, mozione strumentale, l'assessore per l'UNESCO, stiamo già lavorando, Morettuzzo ha perso l'occasione di scusarsi e quindi si litiga sul futuro del tagliamento, sulla salvaguardia anche del tagliamento. Andiamo sul messaggero, il messaggero Veneto apre in prima pagina nelle edizioni della città, l'industria rialza la testa, ordine nuove assunzioni, in Friuli Venezia Giulia, tirano cantieristiche, elettrodomestici, legno mobile e arredo, a maggio manifattura a più 42% l'economia post Covid, dunque qualcosa si sta muovendo ed è sicuramente un dato positivo, questo vediamo la prima pagina della cronaca di Udine dove si parla invece dell'impianto NET scoppia il caso Pozzuolo, troppi camion e odori insopportabili, interviene il sindaco Lodolo della Lega, lo studio dimentica l'asilo di Terenzani, inoltre ci sono dubbi sugli scarichi delle lavorazioni, dunque l'immondizia fa sempre discutere, nessuno la vuole, vicino casa, il conferimento avverrà in capannoni chiusi, questo è quanto sostiene il direttore della NET interpellato sulla vicenda. Andiamo a leggere la pagina di Pordenone, sempre del messaggero, dove in prima troviamo il titolo di apertura che è uguale alle edizioni che abbiamo appena visto della città di Udine, ma la fotonotizia è diversa, qui si parla dei 30 migranti e l'allarme della regione, vediamo cosa è successo, qui un centinaio di migranti è stato rintracciato ad Udine, ma anche a Bicinicco, a Santa Maria la Longa, nel giro di poche ore la città è ripiombata nella stessa situazione di anni fa. Anche sul messaggero di Udine avevamo questa foto, quindi le pagine sono praticamente uguali, ma andiamo a vedere la pagina interna, questa è sicuramente diversa, dove si parla della cronaca di Pordenone, in questo caso dei 170 centri estivi per ragazzi che sono partiti, un test per far ripartire le scuole, il Dipartimento di Prevenzione ha accompagnato dall'istruttoria all'organizzazione già oltre 100 controlli sul campo per far sì che tutto si svolga nella maniera più sicura possibile comunicazione veloce e senza allarmismi è il modello che viene applicato in questi casi, se un bambino ha il raffreddore e lo si tiene a casa alla scuola e chi lo decide? I genitori, il pediatra, la scuola, la catena da costruire per far partire la scuola in sicurezza non è banale e ci si interroga su questo, lo ha fatto il Dipartimento di Prevenzione che si candida a coordinare il processo, ma le regole ancora non sono state fissate, andranno in tal senso, dunque stabilite le regole su come procedere in questi casi quando un bambino appunto si presenta a scuola, manifesta i sintomi del raffreddore e chi è che dovrà dire a quella famiglia che il bambino deve rimanere a casa, chi è che dovrà dire che quel bambino dovrà effettuare dei tamponi, dei test, deve esserci una regola, una procedura che deve essere ancora però messa a punto. Ci spostiamo sul piccolo di Trieste e vediamo l'apertura della pagina dell'edizione cittadina, il mondo della cultura e i presidenti, Narodni sia vera pacificazione da Magris a Kovacic, 40 fra intellettuali, politici e società civile si rivolgono a Mattarella e Pahor, lo storico pupo, riconciliazione nel finale, il collega Prievez, una svolta possibile e dunque c'è molta attesa per questo incontro, è un avvocato, l'uomo in fuga sulla costiera, trovata droga in casa, un caso di cronaca nella giornata di ieri e poi trovato morto al coroneo, detenuto triestino di 38 anni e ancora mistero sulle cause del decesso. Questa è la prima dell'edizione di Trieste, vediamo l'edizione di Gorizia, che si occupa di Gorizia e dell'area dell'Izzontino in generale, l'apertura è uguale per quanto riguarda il titolo, non la foto, dove si parla invece di Monfalcone, demolito dopo soli 5 anni il cordolo centrale a spese della Lidl, che è la catena dei supermercati discount, che si è fatta carico di questo lavoro e che quindi ha consentito la demolizione del cordolo centrale su una delle arterie principali che attraversano la città dei cantieri, Monfalcone, qui si parla di uno straniero positivo dopo i primi 135 tamponi e i test sono stati avviati sui cittadini extra Unione Europea, uno positivo su 135. Andiamo a vedere all'interno perché c'è la pagina della dorsale dedicata alla città di Gorizia. in due mesi il crollo del commercio Isontino, da marzo a maggio 6 aperture, 27 chiusure, Palazzo 900 lascia via Terza Armata, H&M se ne va a novembre, Madrid dell'Ascom dice il Covid-19, presenta il conto. E purtroppo c'era da aspettarselo. Adesso ci spostiamo sullo sport e andiamo a vedere il gazzettino ed il gazzettino apre con le pagine sportive, con l'Udinese, con la foto di Gotti e con il titolo. Ora serve l'allungo, tre punti contro la Sampdoria permetterebbe all'Udinese di non pensare solo alla salvezza, una sfida dura ma non impossibile per poter conquistare la prima vittoria interna post-Covid, poi Lavato, Quagliarella con il vizio del gol, sarà la Sampdoria e quindi Quagliarella ovviamente, l'avversario oggi della squadra Renata da Gotti che giocherà il 19.30 alla Dacia Arena. Poi si parla del Pordenone, Ciuria punta già al Crotone dopo il successo contro il Pisa, l'attaccante ha interrotto l'imbattibilità proprio del Pisa, anche domani giocheremo all'uscita a viso aperto, si avvicina uno scontro diretto che deciderà le sorti del Pordenone, se il Pordenone riuscirà a vincere a Crotone avrà l'opportunità di lottare ancora per il secondo posto in maniera molto decisa, viceversa dovrà in caso di pareggio rimarrà tutto così com'è, potrà succedere di tutto ancora nelle giornate successive, in caso di sconfitta invece dovrà rassegnarsi, per modo di dire rassegnarsi perché sarebbe un bello rassegnarsi comunque a partecipare ai play-off. Buona notizia a disposizione di Tessera e anche Camporese che ha finito di scontare i turni di squalifica, questo il gazzettino per quanto riguarda lo sport, andiamo sul messaggero di Udine, vediamo anche qui la prima pagina di sport dedicata in questo caso a Gotti, le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Udinese TV, riportate dal messaggero, Luca e Mr. Gotti, il pensiero di Dr. Luca e Mr. Gotti, salvezza? No, sette occasioni per crescere, il tecnico che ha guarito lo spogliatoio chiede ai bianconeri di non accontentarsi dell'obiettivo minimo. Vi faremo ascoltare le parole di Gotti nei nostri telegiornali, edizione delle 10 e delle 12, come sempre ogni giorno, sette giorni su sette, non solo la rassegna stampa, nell'informazione del mattino, ma anche due edizioni in diretta alle telegiornali alle 10 e alle 12. Questa è la pagina di sport del messaggero Veneto, adesso andiamo a vedere la gazzetta dello sport con la pagina interamente dedicata all'Udinese, che troviamo qui e ve la facciamo vedere tutti i giorni l'Udinese sulla gazzetta dello sport con una pagina dedicata, con articoli dedicati al mondo bianconero. Udinese, le gioie dell'attacco, il riscatto di Lasagna e Okaka, eccoli qui, i tre attaccanti, con Ilene Storoschi andato in gol a Roma, Okaka che ha segnato nella partita contro la Spal e Kevin Lasagna che ha segnato negli ultimi match a ripetizioni, un giocatore sicuramente ritrovato ed è sicuramente il più in forma. Poi abbiamo Iaialo che torna dopo aver saltato la partita di Ferrara per un piccolo risentimento, una elongazione muscolare e torna a disposizione, vedremo se scendere in campo, probabilmente inizierà dalla panchina con Wallace che avrà di nuovo in mano le chiavi della regia della squadra, insieme a Nestoroschi le punte friulane dopo il lockdown hanno iniziato a segnare con regolarità e sono arrivati ben nove gol in quattro partite e dunque l'attacco comincia a girare, questa la gazzetta dello sport, vediamo le prime di sport, le prime dei quotidiani sportivi nazionali che non possono che essere prime di sport e naturalmente la gazzetta si dedica al match di ieri sera tra Juventus e Atalanta, Scudotto Juve, massimo vantaggio Piotto sulla Lazio battuta dalla Sassuolo, la Dea incanta, CR7 con due rigori, salve i bianconi, l'Atalanta domina ma viene raggiunta due volte, ironia gasp, falli di mano puniti così solo in Italia. L'analisi di Sarri è stata dura ma che bella reazione, la freccia è il titolo che richiava la pagina interna dedicata all'Udinese, Sema a furia di Cross, gioco per papà e Ibra è il mio idolo, idolo qui a sinistra, Inter a caccia, domani se batte il Toro è seconda, Brozzo non supera l'alcol test, la lista di Conte per i rinforzi da Kanté a Vertonghen. Poi vediamo qui, c'è un positivo, Parma nella bolla, notizia di ieri, un positivo nel gruppo squadra, non è un atleta, in isolamento uno dello staff medico, tutta la squadra resta in ritiro, un caso di coronavirus tra gli emiliani, prima della sfida col Bologna, un po' quello che era accaduto in Serie B con il Venezia, ricorderete la partita in dubbio fino all'ultimo tra Venezia e Pordenone, si era in un periodo a cavallo della decisione del cambiamento di protocollo che prevedeva prima del protocollo attualmente in atto l'isolamento, la quarantena più che l'isolamento per tutto il gruppo, un caso di positività, in questo caso invece con il protocollo attuale se viene individuato una positività, viene messo in quarantena, in isolamento da solo la persona positiva in attesa dei controlli, degli ulteriori tamponi che si spera passi il virus e che rimanga asintomatico il soggetto e tutto il gruppo squadra invece rimane in isolamento ma vengono effettuati dei tamponi, uno fino a tre ore, l'ultimo tre ore prima della partita, se risultano tutti negativi la partita si gioca regolarmente, il campionato dunque va avanti, con il vecchio protocollo il campionato avrebbe rischiato lo stop di nuovo dopo questo caso di positività riscontrato nel Parma. Il tutto sport, mani sullo scudetto, Grandi Atalanta, Bacere 7 salva la Juve con due rigori, poi vediamo qui in basso, patto con Longo, allenatore del Torino, vinciamo per te i giocatori del Toro e poi da quest'altra parte Zlatan a Monza, c'è il tuo Milan, Galliani chiama Ibrahimovic, ma è una notizia di fanta, fanta, fanta mercato, pensare a Ibrahimovic a Monza in Serie B sembra davvero un po' troppa anche sforzandosi con l'immaginazione. Mani sullo scudetto, l'Atalanta domina, Juve salva con due rigori, il Ceresete la Dea fa tremare Sarri, le vado molto in vantaggio, fatali i tocchi con le braccia di Deron e Muriel, finisce due a due, Bianconeri ha più otto sulla Lazio, K1 in casa col Sassuolo, Gasperini furioso, si arbitra così solo in Italia, ma il regolamento purtroppo prevede questo, basta far carambolare il pallone su un braccio, sulla mano dell'avversario che non ha alcuna colpa in questo caso e il rigore scatta automaticamente. E' tornato Zaniolo, il sorriso della Roma, a sei mesi esatti dall'infortunio al ginocchio, Nicolò firma il gol del 3-0 giallorosso a Brescia, pronto ad aiutare la squadra. Da quest'altra parte invece, emozione Gattuso, prima volta contro il Milan, Napoli, Rino sfida il club che l'ha reso grande in un match che vale l'Europa, Millic ancora fuori, scelto il tridente leggero per il Napoli con Insigne, Mertens e Callejon, questa la situazione in casa Napoli, questa la prima del Corriere dello Sport. Prima di chiudere vediamo il quadro delle partite di oggi con i risultati già maturati, andiamo a dare uno sguardo alla grafica, poi daremo un'occhiata anche alla situazione in autostrada, visto che il tempo è bello e che oggi molti si metteranno alla guida per raggiungere le località o di montagna o di mare per trascorrere qualche ora in relax. Questo è quello che è successo ieri con il Sassuolo che ha vinto all'Olimpico 2-1, terza sconfitta consecutiva per la Lazio, la Roma che ha vinto a Brescia 3-0 e poi Juventus e Atalanta che hanno pareggiato 2-2, le altre gare di oggi Giano Aspal, Cagliari Lecce, Fiorentina, Verona, Parma, Bologna, Udinese, Sampdoria, Napoli-Milan, Inter-Torino, questo è il quadro della 32esima giornata. Spostiamoci sulla classifica con il più 8 della Juve sulla Lazio, l'Atalanta 67 in zona Champions League, praticamente Champions League conquistata così come per l'Inter a 65, si lotta per il quinto posto tra Roma, Napoli e Milano e il Sassuolo fa un bel balzo avanti a quota 46, poi via via le altre, l'Udinese a 35 insieme alla Fiorentina a 5 punti dal Cagliari, 6 dal Bologna che rappresenta l'ultima squadra della classifica a sinistra che potrebbe essere un obiettivo per l'Udinese se riuscirà la squadra di Gotti a mantenere il rendimento degli ultimi match, tornando principalmente a vincere anche in casa dove la vittoria manca e oggi si spera di potere la centrale contro la Sampdoria che avrebbe una doppia valenza, continuare la serie positiva, avvicinarsi a quella zona di classifica che abbiamo detto e soprattutto allontanare ancora di più le squadre che sono alle spalle ai margini della zona retrocessione. Autostrade, vediamo cosa succede in autostrada, in questo momento ci sono delle segnalazioni che riguardano soprattutto la presenza di installazioni di cantieri e informazioni di servizio, abbiamo visto per esempio quella dell'erogazione del gas per le autovetture e qui i lavori in corso che chiaramente provocano dei restringimenti di careggiata, chiusure di tratti ma sono tutti avvisi che vediamo ogni giorno ma velocemente dobbiamo anche dire che i cantieri si stanno avviando alla chiusura dei cantieri della terza corsia, uno sguardo anche alle webcam, diamo un'occhiata dal vivo a quello che succede nelle aree di maggior interesse e sono quelle dell'autostrada in direzione Milano a Gonarsa sulla A4, in pratica non c'è assolutamente nessuno in strada, soltanto qualche auto privata, come sapete i mezzi pesanti non possono circolare, stessa situazione anche al vivo a 4, la 23, una situazione di assoluta tranquillità con sequenza di immagini scattata due minuti fa e andiamo a venire alla barriera dell'Isert che dà accesso alla grande area metropolitana di Trieste e vedete anche qui passa qualche auto privata ma nessun segnale di allarme per quanto riguarda il traffico, è ancora presto, è vero, ma la situazione è tranquilla. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle 10 con il TG News 24 in diretta, torneremo ad approfondire le notizie che abbiamo visto anche sui giornali questa mattina, vi daremo notizie ovviamente nuove e parleremo della giornata di campionato ci dedicheremo un poco di più allo sport, la domenica è la giornata canonicamente dedicata allo sport e oggi c'è anche l'Udinese che scende in campo, l'Udinese che sarà seguita sul nostro canale da Massimo Campazzo con studio e stadio a partire dalle 18.45 e poi alle 22 sarò in onda io con i miei ospiti in studio e in collegamento per commentare e passare la partita ai raggi X Udinese e Sampdoria. Grazie per averci seguito, ci vediamo dopo alle 10.